buongiorno stavo facendo una riflessione qua nella luce di questa macchina stavo facendo una riflessione sul fatto che diverse persone anche alcune che seguono questo canale forse non hanno l'esatta percezione di cosa vuol dire juventus mi riferisco ancora quel discorso sulla squadra da battere a prescindere dalla posizione che occupa a prescindere dalla categoria che occupa anche quando era in biera la squadra da battere ma non nel senso della più forte perché è la juve e se tu anche la incontri da disastrato la vuoi da disastrata la vuoi battere perché puoi dire sempre da aver fatto un gol alla juve di aver battuto la juve se sei un tifoso di altre squadre puoi sempre dire di aver goduto perché ha perso la juve è la juve il punto di riferimento in questo caso in questo senso è la squadra da battere a prescindere juventus vuol dire da una parte orgoglio passione amore dall'altra parte invidia odio invidia e odio ma solo la juve divide in due l'italia divide in due le tifoserie solo la juventus ragazzi un po lo aveva fatto il milan di sacchi sì forse sì perché vinceva tanto ma non c'è riuscita nemmeno l'inter del post calciopoli a dividere così l'italia fino a questi livelli fino ai livelli a cui con cui la juve ha sempre diviso il tifo la juve è goduria sempre se vince per chi ne è tifoso se perde per chi la odia per chi non ne è tifoso ma non è questione di non essere tifosi è questione di odiarla o di amarla dall'altra parte e a volte penso che veramente non abbiate ma alcuni e alcuni di voi non sto facendo nessuna paternale sarà una constatazione perché meno me ne rendo conto dai commenti che mi arrivano alcuni voi non abbiano la percezione cosa vuol dire juventus ora io posso capire che magari non ce l'abbia il giovane che non ha una storia progressa da raccontare di appartenenza a questi colori ma che non lo capiscano persone più o meno la mia età che giovane non sono insomma mi fa un po più specie cioè juventini da anni da decenni ma ancora non vi siete resi conto di cosa vuol dire essere juventini essere juventus appartenere al mondo juventus se mi mandate determinati commenti del tipo ah 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 figurati se era la squadra da battere l'anno scorso con lo schifo che faceva da battere nell'altro senso se mi fate questi commenti qua allora non avete capito cosa vuol dire essere juventus un altro dato e questa volta centra di numeri lo si può evincere per esempio dagli ascolti pubblicati da da zone 46 milioni di spettatori ha fatto la juventus che non vuol dire che siano tutti juventini e attenzione ma è la squadra che ha fatto più ascolti su da zona seconda il milano sbaglio è a 39 7 milioni in meno queste sono le differenze poi c'è il napoli 35 l'inter è fuori dal podio ma perché tante partite dell'inter sono su sky e comunque la juventus ha una media di ascolto maggiore rispetto a tutte le altre chi la guarda perché è tifoso e soffre e vuole vederla vincere qualcuno vuole anche vederla perdere va bene lasciamo stare chi la guarda sperando che perda la juve è il punto di riferimento piaccia o non piaccia lo so che abuso un po di questa espressione ma è sempre così piaccia o non piaccia la juve da sempre e lo sarà per sempre il punto di riferimento che vada bene che vada male che vinca che perda che possa ambire lo scudetto al quarto posto eccetera 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 uno che se ne è reso conto sulla propria pelle se vogliamo è stato leonardo bonucci che quando ha lasciato il milan la juve ha voluto subito tornare poi l'anno dopo gli è bastato un anno di milan senza offesa per carità ma si rendeva conto che il mondo juventus è qualcosa di diverso è qualcosa di diverso diverso per una semplice questione numerica la differenza che c'è tra tifosi la differenza che c'è tra i numeri tifosi tra cassa di risonanza tra tanti aspetti di questo calcio e bonucci chiuderà non chiuderà la sua carina la juve molto probabilmente la chiuderà dall'altra parte perché è stato tra virgolette invitato a prendere in considerazione possibili offerte di questa ad esempio il marsiglia cioè gli è stato fatto capire che a 502 presenze in questa maglia ma parte da quinto difensore centrale quest'anno e non so se valga la pena farlo onestamente se voglio di giocare ancora per un anno perché l'anno prossimo smetterà e poi farà l'allenatore l'ha detto più volte e ce l'ha lo stampo dell'allenatore bonucci è giusto gli ha detto la juve che tu consideri eventualmente altre offerte al punto che la juve gli pagherebbe una parte dell'ingaggio dei 12 milioni d'ordi ora pare che sia solo il marsiglia in questo momento la possibilità concreta posso dire una cosa se succederà mi dispiacerà tanto mi dispiacerà perché posso dire di aver visto nascere la sua carriera in bianconero io mi ricordo e qui scattano i ricordi a volte uno dice ma che pale questi ricordi no no mi ricordo perfettamente l'anno in cui arrivò la juve di del neri alla juve di del neri lui era stato via con la nazionale io ero a seguire la juve in trentino amichevole a rovereto un caldo infernale circa 40 gradi bonucci aveva rinunciato aveva disputato un ricorso mondiale gli europei con l'italia aveva rinunciato a dieci giorni di vacanza aveva anticipato i dieci giorni rientro e me lo vidi durante l'amichevole la juventus arrivare al campo per la prima volta e correre attorno al campo mentre la juventus si allenava aveva rinunciato a una settimana dieci giorni di ferie perché aveva avuto l'impegno con la nazionale quindi dal punto di vista della applicazione e del professionismo giocatore assolutamente esemplare poi c'è stata quella parentesi al milan dovuta ai litigi con con allegri poi c'è stato questo anno falcidiato anche da infortuni che sono dipesi anche da situazioni esterne anche qui la testa come Pogba non so quali siano i suoi motivi ma da situazioni esterne ok però ha detto non ero abituato a giocare così poco quindi è evidente la sua insoddisfazione per una nata del genere è evidente che avendo lui stabilito che giocherà ancora un anno lo possa fare laddove potrà giocare maggiormente e non dover seguire per l'ultimo anno praticamente tutte le partite della juve dalla panchina ed essere una sorta di fondo del barile da raschiare quando si tratta di farlo giocare sarebbe brutto anche nei suoi confronti sarebbe non dico irrispettoso ma no mi fermo lì a brutto poi sa anche lui di aver commesso diversi errori sa anche lui di essere molto orgoglioso e vuole dimostrare a se stesso di valere per la juve e per la nazionale ma lì credo che sia un capitolo effettivamente finito e c'entra poco con l'errore contro la spagna perché non si può giudicare un calciatore per un errore che ha commesso per un per alcuni errori perché tutti commettiamo errori tutti i calciatori commettono errori però posso dire che anche in questo caso andando via definitivamente bonucci è come se si chiudesse un'altra pagina della della mia vita professionale perché l'ho visto arrivare l'ho visto portare la juve in alto assieme agli altri due barzagli e chiellini dell'ultimo pezzo di quella bbc davanti a buffon che lascerà la juventus e quindi questi sono momenti un po particolari ma forse perché io vivo troppo intensamente le cose con troppa passione non lo so vedremo ciao ragazzi iscrivetevi al canale stasera entriamo un po più nei dettagli di mercato per quanto riguarda zagnolo per quanto riguarda milinkovic attenzione a casa dei attenzione a timoti wea wea grande tifoso della juve lo ha confessato ha sempre avrebbe sempre voluto giocare nella juve non ha potuto realizzare questo sogno pilastro del milan che dice sono sempre stato di posto della juve ma ci saranno anche i giocatori della juve che sono sempre stati i tifosi di altre squadre questo è il calcio questa è la passione poi c'è il professionista sono due cose diverse ciao ragazzi poi coniugarle penso che sia il massimo iscrivetevi iscrivetevi iscrivetevi